Sveglia, è l'ora della passeggiata! Forse dovrei lasciarlo dormire. Ok. Sono sveglio. Ok, Crypto, andiamo a passeggio. Io ho un padrone, ed è Superman. Ok, un'ultima stiotina. Dovrebbero chiamarmi Iron Man. No. Il mio cane è il migliore, ma non è il massimo con gli altri animali. Come va la vita, simpatico cane normale? Ho morso il tizio della FedEx l'altro giorno. Per chi lavorava? Il generale Zod, la Legion of Doom? La FedEx? Ma certo, la federazione degli ex. Non bisogna fidarsi. Perché il mio padrone ci mette così tanto? Bene, bene, bene. Qui abbiamo la Justice League. Superman! Che succede? Sei superforte! Dovrei essere supermorto ora, giusto? Il mio migliore amico è in pericolo. Dovete aiutarmi! Siamo solo un branco di animali domestici, ma siamo più forti di quanto credi. Mi sgrugnito! Non ho visto nulla! Turbo tartaruga! Come sono finita? Cane indistruttibile! Grandioso! Io sono l'unico che non ha ottenuto alcun super... Quando qualcuno ha un potere incontrastabile... ...ha il dovere di usare quel potere per... Scusa, stavi dicendo qualcosa? Ehi, ma quanto hai bevuto? C'erano due gabinetti. E un bidet. Anche un bidet è assurdo. Non sapevo nemmeno cosa fosse. È una sorta di fontana per cani. Dio di lì, gattino. Asso, usa lo scudo canino. Quale scudo? Eccellente! Deve essere stato molto doloroso. Vogliamo scambiarsi i poteri?